Buongiorno e benvenuti a Italk. Il depauperamento delle risorse ittiche è conosciuto come sovrappesca e consiste in un'attività eccessiva che minaccia di far scomparire alcune specie marine. A questo problema è collegato quello della qualità del pesce che finisce sulle nostre tavole. Ne parliamo con Maria Damanachi, commissario europeo per gli affari marittimi e la pesca, ma prima di addentrarci nel tema vorrei chiederle del suo paese, la Grecia, come giudica la situazione economica al momento. Possiamo essere moderatamente ottimisti dopo aver attraversato alcuni anni molto difficili, tre o quattro anni di grandi sacrifici, di taglia, stipendi e pensioni, di disoccupazione arrivata quasi al 30%. Davvero un disastro. C'è chi dice che la Grecia sia sul punto della disintegrazione sociale, eppure lei è ottimista? Perché essere ottimisti? Perché ora cominciamo a intravedere una luce in fondo al tunnel. Per la prima volta la Grecia ha un surplus, ci sono riforme in corso e ci aspettiamo un ritorno dall'attività turistica. A dire il vero sono attesi molti turisti quest'estate. Quindi se continuiamo su questa strada, penso che alla fine ce la faremo, ma le difficoltà non sono finite. Teniamo le dita incrociate. Passiamo alle domande. La prima viene da un'associazione chiamata Fish Fight. Mi chiamo Mario Picazzo. Fish Fight si batte contro la pesca indiscriminata e gli scarti di cattura e siamo sostenuti da 850.000 cittadini. L'ultimo ostacolo nella riforma della politica comune sulla pesca è la posizione di alcuni stati membri come Spagna, Francia e Irlanda. La Commissione e il Parlamento europei sono dalla nostra parte. La domanda è che cosa dobbiamo aspettarci ora che i negoziati si allargano ai ministri della pesca? In questa faccenda gli interlocutori diventano tre e quando ci sono diversi cuochi in cucina a che cosa ci possiamo attendere? Devo dire che sono ottimista. La riforma non sarà anacquata? La possibilità che sia anacquata esiste. Se si cerca un compromesso a tutti i costi non posso escluderlo. Ma resto comunque ottimista perché c'è un vasto sostegno tra i cittadini. Sono state raccolte quasi un milione di firme. Gli scarti nella pesca rappresentano un problema enorme. I dati parlano di un 23% di scarti di pescato che vengono gettati in mare. In alcuni settori si arriva anche all'80%. Penso che tutti oramai abbiano capito che il problema è reale. Il primo approccio tra i ministri nel Consiglio europeo è stato positivo, senza eccezioni, ma naturalmente sarà importante rispettare scadenze e impegni. Passiamo ora alla domanda di un pescatore. Mi chiamo Clipa Petro, sono romeno e sono un pescatore. Vorrei chiedere al commissario Damanachi perché l'Europa mantiene livelli di pesca così alti quando i pesci rimasti sono così pochi. Una domanda diretta. Che cosa ne pensa? Ci stiamo provando, ma non ci siamo ancora riusciti. Il punto centrale di questa riforma è fare in modo che la quota di pescato sia tale da non compromettere le risorse ittiche nel rispetto dei tempi di riproduzione delle specie marine. È ciò che chiamiamo sostenibilità massima. Se riusciremo a far adottare la nostra riforma, le prospettive saranno molto migliori. Dopo il 2022 quasi tutti i tipi di pesce saranno catturati secondo quantità e metodologie sostenibili. I posti di lavoro nel settore aumenteranno del 30% e le entrate del 24% a tutto beneficio dei pescatori. La pesca eccessiva depaupera anche i posti di lavoro? Sì, bisogna mantenere un certo equilibrio. In questo consiste il mio lavoro. Devo bilanciare l'aspetto sociale con quello inerente alle risorse ittiche. E non dimentichiamoci della qualità del pesce che mangiamo. La prossima domanda è su questo tema. Mi chiamo Nicolas, sono francese. Vorrei chiedere che cosa può fare la Commissione per garantire la salute dei consumatori quando si tratta del pesce che arriva sulle nostre tavole. Un problema non secondario. Sì, è un aspetto da non trascurare perché noi dipendiamo dalla merce che importiamo, ovvero circa il 64% del pesce che finisce nei nostri piatti. Pesce che viene controllato, immagino? I controlli ci sono, ma non possiamo controllare ogni singolo pesce. Ci sono tonnellate di pescato che arrivano da diverse regioni. I controlli stanno diventando più severi? Diventano più severi perché abbiamo assolutamente bisogno di gestire questa situazione e abbiamo diversi strumenti per farlo. Strumenti legali che si spingono fino al blocco delle importazioni in casi estremi. È la misura più dura e si applica quando c'è il sospetto che un peschereccio abbia agito in modo illecito. La prossima domanda sulla qualità viene da Slow Food, un'associazione che sono in molti a conoscere. Mi chiamo Michelle Mesmain, coordino la campagna di Slow Food per la pesca, Slow Fish. La domanda è questa. Come possiamo preservare più efficacemente i nostri oceani se continuiamo ad adottare un sistema di quote di pesca, dimenticando che esistono interazioni ben più complesse tra pesce e ambiente? E perché promuoviamo l'acquacultura? Che è un po' come prendersi cura delle foreste innestando fattorie. È un'analogia interessante. Che cosa ne pensa? Conoscono le regole. La mia prima risposta è l'etichettatura, una buona etichettatura. E questo rientra in una proposta che purtroppo non è ancora stata approvata dal Consiglio. E anche il Parlamento sembra riluttante ad adottarla. Ma spero che prima o poi vada in porto. L'idea è fare in modo che ogni pesce che troviamo nei supermercati d'Europa abbia un'etichetta che dica se è fresco o congelato e dove è stato pescato. E poi dobbiamo occuparci dell'acquacoltura, perché l'acquacoltura può essere un'alternativa alla sovrapesca. Si è fatta come si deve? Sì, deve essere fatta in modo tale che il nostro nuovo strumento finanziario possa mettere da parte risorse per l'acquacoltura, quella in mare, ma anche in acqua dolce. Oggi tutti gli Stati membri, compresi quelli che non affacciano sul mare, sono interessati a progetti di acquacoltura, perché vogliono allevare pesci. Passiamo ora a una domanda sulle quote che arriva da Greenpeace. Mi chiamo Saskia e vengo dalla Germania. La Commissione sostiene che il sovradimensionamento dei pescarecci sia uno dei fattori responsabili della sovrapesca in Europa. Ora che la proposta di ridurre le capacità dei pescarecci con un sistema di quote non è più attuale, quali soluzioni alternative ricercherete? Come intendete procedere? Sarò onesta, sarà molto difficile. Dobbiamo cercare di far passare l'idea che i fondi destinati ai singoli Stati membri sono sottoposti a condizioni. Abbiamo un fondo e se questo fondo è finanziato con i soldi dei contribuenti servono regole molto severe che impediscano agli Stati di mettere le mani sui finanziamenti, a meno che non siano disposti a ridurre la sovraccapacità. Un'ultima domanda sulla sostenibilità. Mi chiamo Lorena Stoica e sono romena. La domanda è perché l'Europa permette di pescare a questi livelli quando sappiamo che la cosa non è sostenibile? Che cosa conta di fare, commissaria da Manachi? Ciò che dobbiamo fare è cambiare il modo in cui sono assegnati i finanziamenti. Daremo più soldi ai pescherecci più piccoli, sosterremo le comunità locali, i pescatori locali. Li sosterremo per fare in modo che possano dare nuova linfa alle economie locali, coinvolgendo anche le donne nel processo di trasformazione dei prodotti ittici. Aiutare i piccoli pescatori è l'unico modo di promuovere una pesca sostenibile. E poi, naturalmente, dobbiamo imporre dei limiti all'attività dei grandi pescherecci. Si tratta di bilanciare interessi diversi. Grazie, commissario da Manachi, per aver partecipato alla trasmissione, l'appuntamento e per la prossima edizione di Italk. Grazie per la visione.